Arrivano prestigiosi e gratificanti riconoscimenti internazionali per l'azienda ospedaliera Marke Nord, che grazie alla sua qualificata attività anche in tempo di pandemia è stata premiata da Onco Guida per il numero di interventi effettuati, nonché inserita tra le eccellenze nella classifica di Newsweek sui migliori ospedali specializzati al mondo. Si tratta di due traguardi resi ancora più importanti perché circostanziati a un momento storico in cui l'emergenza sanitaria ha reso critico per molti cittadini l'accesso alle cure e li ha spesso costretti ad un allentamento della sorveglianza verso le altre patologie esistenti per far fronte alla drammaticità dei contagi. Onco Guida rappresenta lo strumento di informazione oggi più esaustivo per i malati oncologici raccogliendo i dati delle migliori strutture sanitarie del paese che trattano le patologie tumorali. Gli ospedali che hanno indicatori di performance elevati in termini di efficacia, efficienza e sicurezza ricevono un bollino verde, tanti quelli assegnati a Marche Nord in questo 2021. Abbiamo praticamente tante unità operative che hanno avuto il bollino verde e di essere praticamente tra le unità operative con la chirurgia, gastroenterologia, l'otorino, le patologie del collo e praticamente della gola, la senologia che ci hanno dato un bollino verde come centri di riferimento per il numero di interventi effettuati a Marche Nord nonostante della pandemia.